Gatteo, Dozza, Bormio, Livigno, Venezia e Gardone Riviera. La ventitresima edizione della milanesiana che abbiamo come sempre voluto rappresentare nella rosa dipinta da Franco Battiato e che era interpretata dal grafico Franco Achilli che ringrazio per la fedeltà generosa, ha un tema come sempre. Il tema di questa edizione è omissioni. Omissioni è quello che avremmo dovuto e potuto fare. Buongiorno Assessore, mi scuso ma mi hanno detto di iniziare. Quindi siamo proprio sul tema della milanesiana, quindi omissioni, quello che avremmo dovuto e potuto fare e non abbiamo fatto e quello che avremmo potuto dire e non abbiamo detto. Un tema che ha una gamma vastissima di declinazioni che sono morali, giuridiche, politiche, estetiche e come insegnava Eco non esiste letteratura senza omissioni. E la rosa, come vedete, contempla i colori dell'Ucraina. Non abbiamo potuto e non abbiamo voluto sottrarci al rumore della storia e questa guerra insieme ad altre guerre, altrettanto brutali, entrerà in questa milanesiana. Ringrazio il piccolo teatro e Claudio Longhi che purtroppo non può essere qui ma che ci manda il suo saluto, che ospita questa conferenza stampa oltre ad alcune serate della milanesiana. E ora cedo subito la parola al sindaco di Milano, Beppe Sala. Grazie, grazie Elisabetta, grazie a tutti voi. Credo che un po' il segreto della cultura milanese ma al di là del segreto quello che la cultura milanese deve fare è cercare di stare unita e di avere sempre in testa che si lavora per la nostra comunità. quindi Milano è ciò che riunisce la nostra comunità è la definizione in qualche modo della nostra comunità ma al contempo ognuno deve conservare la sua caratteristica perché questa è la cosa che poi fa funzionare la nostra offerta culturale. Io ci tengo veramente molto a questo, ci tengo veramente al fatto che più che mai in questi momenti difficili tra tutti noi che di cultura e quindi di società ci occupiamo ci sia una comunanza di intenti ci sia veramente anche la voglia di stare insieme di lavorare insieme, di volersi bene perché è un momento tale in cui questi sentimenti possono fare la loro parte e al contempo ognuno ci mette il suo qualcosa in più di fantasia qualcosa in più di personalità qualcosa in più di costanza vedi il fatto che siamo alla 23esima edizione è qualcosa di significativo di molto milanese insomma la capacità di perseverare quindi certamente credo che mi faccio portavoce di tutta Milano nel ringraziare innanzitutto te per questa enorme costanza, volontà e voglia di generare e rigenerare continuamente questo grande successo della milanesiana a me piace la milanesiana perché ha questa idea di essere molto territoriale e di andare a fondo nel territorio al compenso di avere questa apertura internazionale è una cosa di cui credo ci sia molto bisogno ora, lo sguardo che la milanesiana offre è sempre uno sguardo alla ricerca della contemporaneità della lettura di cose contemporaneo e guardate, è tutto meno che scontato perché io stesso mi accorgo che quando cerco di spiegare ai miei concittadini il perché della mia azione da cosa mi faccio guidare nella mia azione e per quanto vogliamo metterla anche in azione politica è qualcosa di personale che uno sente dentro dico spesso che la mia stella cometa è la contemporaneità è la lettura della contemporaneità è la comprensione di quella che è la contemporaneità per esempio nasco e cresco in una cultura cattolica e sono cattolico e con tempo non posso ignorare dove va la nostra città dove va la nostra la cultura contemporanea e questo è veramente credo sia un po' il segreto delle città perché le città sono attrattive a mio giudizio sono attrattive perché incarnano questa lettura e cercano di guardare avanti e cercano di prefigurare un comune modo di vivere che sia attrattivo per oggi e per il futuro in questo senso leggere dal punto di vista della cultura quella che è la contemporaneità in questo momento è un esercizio fondamentale è un esercizio fondamentale che va al di là degli slogan delle letture semplificate ma che per comprendere deve veramente affondare e mettere le mani nel territorio alla fine se la milanesiana o le altre parti dell'offerta culturale milanesi funzionano è anche perché ci sono i milanesi e poi chi a Milano comunque in qualche modo vive e cioè c'è un popolo curioso attento che è sempre alla continua ricerca di un miglioramento e di uno sguardo aperto e anche un po' disincantato alla nostra realtà e quindi veramente ben venga il fatto che la milanesiana come altre altre iniziative culturali si sta nei teatri però sta nelle bioteche però sta nelle università però sta nei luoghi di impresa però sta laddove c'è la quotidianità ecco io di questo vi ringrazio e credo che in questo momento in cui abbiamo bisogno un po' di una con la primavera arriva la milanesiana ecco che abbiamo bisogno di una di una nuova primavera ben venga ben venga la stagione la stagione della milanesiana noi poi ne parlerà magari il mio prode assessore Tommaso Sacchi cerchiamo di costruire di fare la nostra parte con Milano è viva che è il nuovo paninsesto culturale di Milano che avendo a disposizione alcuni fondi non sono mai abbastanza ma noi li facciamo bastare il governo rilancia rispetto all'idea di coinvolgere tanti nell'offerta culturale faremo la nostra parte per esempio ma è veramente bello il fatto che tu sei qua a presentare la milanesiana ma sei al piccolo che ti offre ospitalità ma lì c'è Andrè ma la scala è sempre presente nei nostri ma il piccolo teatro di quartiere è inserito in questo percorso dobbiamo veramente essere così e anche Book City sì e anche Book City dobbiamo essere così dobbiamo veramente darci una mano tutti a vicenda perché è l'unica possibilità che abbiamo per uscire da questo difficile periodo grazie a tutti voi grazie grazie sindaco l'assessore è alla cultura della regione Lombardia mi dice che non è potuto entrare perché non aveva la mascherina FFP2 e quindi spero che ecco sta arrivando ora cedo la parola all'assessore alla cultura del comune di Milano Tommaso Sacchi grazie grazie mille grazie nel frattempo vedo che il collega della regione è riuscito ad entrare quindi i potenti mezzi del piccolo teatro di Milano hanno tutti i soldi che c'ha la regione le mascherine esatto almeno la mascherina è più buongiorno tutti i soldi che c'ha la regione dai le mascherine buongiorno 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 a tutti a tutte voi ma allora la prima riflessione è davvero una riflessione di di gratitudine di riconoscenza ad Elisabetta per il lavoro e al suo team straordinario di lavoro per questa ventitresima edizione della milanesiana e devo dire che con una tenacia che oramai tutti conosciamo credo che nessuno possa negare la tenacia di Elisabetta e la sua capacità di entrare nel merito di una rassegna che racconta un mondo contemporaneo come abbiamo tutti ascoltato delle parole del sindaco che hanno restituito un po' questo cosmo questa visione e questo disegno di un mondo che passa attraverso le arti della musica del cinema della scienza dell'arte della filosofia del teatro del diritto dell'economia dello sport insomma questa è la milanesiana uno spaccato e una visione sul mondo fuori dai preconcetti fuori dagli schemi stretti però che racconta le intelligenze che ci circondano e credo che non ci sia sede migliore lo dico forse con una punta di orgoglio spesso veniamo un po' additati di autoreferenzialità ma in questo caso credo che sia anche una visione molto molto oggettiva su quella che dopo 23 edizioni possiamo definire una grande rassegna culturale del nostro paese penso che a Milano abbia davvero un legame a doppio filo con tutto questo e che non possa che essere la sede naturale dopodiché io dico anche che ho avuto il grande privilegio di servire come assessore a un'altra città un altro straordinario capoluogo d'arte e di cultura che è Firenze e guardavamo guardavamo da amministratori guardavamo come ad un esempio difficilmente replicabile in un'altra città alla milanesiana beh prima di tutto difficilmente replicabile perché il nome parla chiaro quindi è difficile pensare che la milanesiana non possa avere il suo grande cuore e il suo grande fulcro proprio nella città di Milano però nonostante questo e questo ci deve far pensare nonostante nel titolo ci sia Milano nonostante sia una rassegna che racconta che porta dentro di sé un carattere ambrosiano contemporaneo è riuscita a raccontarsi in venti città d'Italia questo perché quando i progetti hanno una forza nel format nella direzione e nella capacità davvero pervasiva del messaggio che vogliono trasportare con loro riescono ad andare oltre i confini della città e mi fa molto piacere anche che sia presente oggi Piegaetano Marchetti il professor Marchetti che presiede Book City oltre che la fondazione del Corriere della Sera e che quindi testimonia quello che anticipava Elisabetta Sgarbi ovvero di un osmosi di un racconto intrecciato tra due mondi così sinergici come Book City quindi la promozione del leggere della lettura oramai anche questa una grande manifestazione che racconta Milano in un certo senso e che porta un pezzo di mondo a Milano e la milanesiana che ha questa capacità di visione circolare olistica a tutto tondo sulle arti e sulla scienza e poi la milanesiana di fatto è stata una grande anticipatrice cioè è stata una forza anticipatrice di un modello che poi si è ritenuto molto molto fortunato per Milano e molto come dire che ha connesso delle stagioni culturali della nostra città che è quel modello straordinario capace di intrecciare le intelligenze e i luoghi della città cioè la milanesiana è anche una cucitura unica di luoghi come il teatro in cui siamo il cinema attraverso i suoi luoghi e le sue intelligenze quindi lunga vita la milanesiana sono 23 edizioni ma vogliamo farne molte e molte di più e grazie Elisabetta Sgarvi per questo invito grazie 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 assessore ora cedo la parola all'assessore all'autonomia nei confronti dell'attività sul palcoscenico nei teatri eccetera ci sia in questo momento una pervicace negazione di libertà vale a dire prolungare fino al 15 di giugno quando peraltro le stagioni teatrali vanno a concludersi l'obbligo della mascherina quando fuori di qui non la usiamo più da nessuno io lo trovo una forma di accanimento nei confronti di un settore che ha sofferto davvero in modo pesante la pandemia per cui aveva senso certo quando avevamo i pronto soccorsi pieni quando le ambulanze facevano il giro intorno agli ospedali abbiamo imparato a gestire la pandemia io trovo che sia una forma davvero di accanimento e di negazione di libertà che a me che è liberale sono fino in fondo davvero mette un po' a disagio al di là di questo sfogo che non è connesso al fatto che mi abbiano tenuto fuori perché non avevo la FFP2 io rinnovo le mie trasformando in una manifestazione a livello nazionale e internazionale io trovo che il successo vero della milanesiana sia questa idea della contaminazione fra i generi la letteratura l'arte la filosofia la scienza la musica che ne fa un'offerta culturale non solo molto originale ma soprattutto e questo deve essere riconosciuto a Elisabetta l'ho sempre detto di elevatissima qualità ancora una volta Regione Lombardia a sostenere la milanesiana c'è proprio perché nel paesaggio nel panorama dell'offerta culturale di questa Regione la milanesiana spicca davvero come iniziativa di elevatissima qualità per cui davvero in bocca al lupo questa edizione della milanesiana scusate lo sfogo all'inizio ma veramente io lo trovo inaccettabile che dobbiamo in teatro tenere la mascherina fino al 15 di giugno grazie grazie assessore ora cedo la parola al notaio Pier Gaetano Marchetti che è presidente della fondazione Corriere della Sera presidente di Book City tra l'altro ci sta seguendo in streaming anche Achille Mauri presidente del comitato promotore di Book City e di messaggerie Pier Gaetano Marchetti è curatore della sezione diritto della milanesiana una sezione seguitissima ed è anche amico della milanesiana per cui a te Pier Gaetano la parola quindi hanno tutti capito che ne devo parlare bene no l'esordio grazie Elisabetta la fondazione Corriere della Sera intervenne 18 anni fa quando l'allora amministrazione tagliò comunale tagliò i fondi alla milanesiana da allora è stata sempre vicina credo abbia contribuito allora alla sopravvivenza in modo ben più rilevante di quanto è l'appoggio odierno già milanesiana ormai si diffonde in 20 città io credo Elisabetta che il prossimo passo sarà anche quello di avvicinarsi a delle regioni più del centro sud ma penso che siate al lavoro anche per questo e non credo vi sia contraddizione fra questo nome e una presenza diffusa forse addirittura come numero di manifestazioni maggiore nelle altre città perché perché il milanesiano porta con sé alcune caratteristiche della città che sono state ben evidenziate le convivenze gli intrecci culturali la curiosità le ospitalità le reciproche reazioni i colloqui con altre manifestazioni come appunto con Book City e questo effettivamente è un grande valore della milanesiana si elenca nel frontespizio del programma i generi letteratura cinema scienza arte filosofia teatro diritto economia sport è importante questo ultimo sport credo lo dice uno sportivo che cammina col bastone ma perché perché dimostra che una visione della cultura all'anglosassone che contiene tutti i modi di vita tutti i modi di fruire della propria realtà tutta l'esplorazione della realtà di cui ci parlava il sindaco sala e infine infine il tema vedete quando si giunge a una certa età il tema dell'omissione assilla io credo che quando si giunge a una certa età diventa appunto assillante la tristezza di probabilmente non riuscire a fare la gran parte di cose che si vorrebbe fare il dolore dell'omissione l'omissione ma l'omissione è anche rimpianto o sensi di colpa del passato e a fianco dell'omissione soggettiva di ciascuno di noi oggi c'è l'omissione collettiva ma cosa abbiamo fatto noi che abbiamo creato l'intelligenza artificiale che abbiamo lo robot che sostituisce l'uomo in funzioni cosa abbiamo fatto per ritornare ad una umanità con l'ascia in mano ad un'umanità che qualche anno fa tagliava le gole e oggi è di nuovo in una guerra crudele e spietata ecco il significato profondo che lega l'esperienza individuale e l'interrogativo sui nostri tempi quindi la milanesiana ha sotto questo profilo credo un profondo valore filosofico di riflessione grazie Elisabetta grazie Pier Gaetano ora vi stanno distribuendo la prima edizione del programma del festival che potrebbe subire qualche variazione potremmo emendare le imprecisioni in un programma così vasto nell'edizione definitiva successiva che andrà in distribuzione anche nelle librerie che verrà poi pubblicato sul sito della milanesiana che ricordo a tutti è www.lamilanesiana.eu e mi scuso in anticipo ogni tanto mi succede a fine milanesiana che qualcuno che ho invitato mi dica ma ci sono anch'io non vedo il mio nome sui giornali ecco magari questa volta proprio per la vastità del programma ometterò dei nomi quindi mi scuso con gli autori che non citerò le prime omissioni della milanesiana 2022 saranno probabilmente le mie però per darvi i numeri della milanesiana e ve li do ora che siete ancora freschi perché poi il discorso cercherò di sintetizzarlo ma è ampio sono questi cioè oltre 150 gli ospiti distribuiti in 63 appuntamenti con 8 anteprime e 9 mostre ecco guardavo le mie spalle perché questo schermo che insieme al comitato editoriale appunto illustrerà il programma cioè il lavoro del comitato editoriale insomma ci aiuterà a seguire e anzitutto ringrazio i principali partner della milanesiana 2022 oltre a quelli che hanno parlato e con molti di loro condivido questo lungo viaggio in Italia senza di loro sarebbe impossibile costruire questo programma a loro al termine del mio discorso cederò la parola prima di tutto la cederò a Andrea Ruth Sciamma perché con lei abbiamo fatto davvero un grande lavoro per uno degli appuntamenti che poi vi illustrerò ed è giusto che per tutte le energie e le risorse che vi ha messo per due mesi ne abbiamo parlato ci siamo riusciti quindi che sia la prima poi a parlare ci sono alcuni nuovi sponsor cui voglio dare il benvenuto e sono Ealixir Volvo Car Italia Conad Scuola Interpreti e Traduttori Carlo Bo il Comune di Seregno il Comune di Livigno e Amplifon voglio ringraziare invece i partner che hanno confermato il loro sostegno e sono Fondazione Cariplo Regione Emilia Romagna il Comune di Ascoli e la Regione Marche Enel Intesa San Paolo Comune di Bormio la Fondazione Meier l'Almo Collegio Borromeo di Pavia il Comune di Bassano del Grappa Grafica Veneta Milano-Serravalle MMSPA La Venaria Reale il Comune di Alessandria il Comune di Sondrio lo Studio Toffoletto Pier Gaetano Marchetti Sergio Antolini la Fondazione BPM Damman Frerra del Gruppo Illi la Fondazione AM e la Galleria Vic di Milano e come vi dicevo l'apertura sarà a Sondrio il 4 giugno con una mostra apriamo con la mostra di Simone Cristicchi e inaugureremo la prima delle nove mostre della milanesiana continuando l'approfondimento grafico di Simone Cristicchi che è noto come cantautore ma ha anche una vena artistica figurativa piuttosto forte il titolo della mostra sarà Omissioni domenica 5 giugno arriveremo a Milano con un Aspettando la milanesiana partiamo in nome del cinema al cinemanteo ricordando François Truffaut in occasione dei 90 anni dalla sua nascita la milanesiana è sempre una milanesiana anche di memoria di anniversario e quindi partiamo con questo anniversario ci saranno Paolo Mereghetti e Paola Malanga autrice di un libro essenziale su François Truffaut vedremo i 400 colpi l'ultimo metro è finalmente domenica cioè il Truffaut più classico lunedì 6 giugno saremo a Bergamo presso la galleria Ceribelli e qui inaugureremo la seconda mostra della milanesiana dedicata a uno straordinario fotografo italiano Nino Migliori che è nato a Bologna dove vive insieme alla sua complice e compagna di vita Marina Truan Migliori è un giovanissimo sperimentatore io l'ho visto all'opera di oltre 90 anni che continua a sperimentare con la materia e con la macchina fotografica oggetto di questa mostra sarà la sua serie bellissima intitolata Lumen dedicata ai capolavori della scultura italiana ma illuminati dalla luce di una candela e ci sarà un catalogo a cura della fondazione Elisabetta Sgarbi con testi critici di Arturo Carlo Quintavalle che ne possiede anche in parte l'archivio fotografico Vittorio Sgarbi e Italo Zagner e c'è in questa situazione ci sarà appunto presente l'autore e l'entusiasmo di Migliori è tale che lo voglio dire ha voluto essere presente anche qui gli chiederei di alzarsi e per lui chiedo un applauso dov'è Nino Migliori? Eccolo un applauso molto caloroso a lui sarà dedicato anche un concerto classico un breve concerto per pianoforte di Marco Morgan Castoldi da martedì 7 giugno saremo a Milano e qui appunto vorrei soffermarmi saremo al teatro Franco Parenti assisteremo all'anteprima assoluta di uno spettacolo di Luca Barbarossa che avete visto al primo maggio saranno otto dicevole anteprime di questa milanesiana lo spettacolo che sarà a bordo della piscina su un palcoscenico galleggiante viene per la prima volta rappresentato e è intitolato Non perderti niente ed è un racconto cantato di Luca Barbarossa con Stefano Cenci alle tastiere e Claudio Trippa alla chitarra ed è tratto dall'omonimo libro bellissimo pubblicato da Mondadori mercoledì 8 giugno sempre al teatro Franco Parenti un'altra anteprima a Milano dopo essere stato presentato questo spettacolo alla Biennale Teatro di Venezia Chi ha tu è Montpère Chi ha ucciso mio padre per la regia di Thomas Ostermeyer con lo scrittore in veste di attore Eduard Louis è tratto dall'omonimo romanzo di Eduard Louis pubblicato in Italia da Bonpiani e lui è uno degli scrittori più interessanti della letteratura contemporanea che è impegnato a indagare i margini della società con una grande consapevolezza ma il regista Thomas Ostermeyer è uno dei grandi registi teatrali contemporanei i suoi spettacoli sono stati rappresentati nei più importanti teatri d'Europa è stato curatore del festival di Avignone membro dell'Accademia d'Arti di Berlino Primo Lier e ama lavorare molto con gli scrittori contemporanei quindi con Eduard Louis in questo caso e anche con Virginie de Penta e quello di Ostermeyer e di lui è uno spettacolo di grandissima complissità anche per la scheda tecnica insomma per i costi che abbiamo dovuto abbattere con la complicità dell'autore e del regista e con André abbiamo lavorato moltissimo quindi la ringrazio per avere voluto e sostenuto questa anteprima a Milano così importante nel suo teatro e sarà lei ad aprire la serata con una lettura sul tema delle omissioni ringrazio la regione Lombardia per il supporto a questo progetto giovedì 9 giugno saremo al teatro Carcano che ringrazio per l'ospitalità e la collaborazione che si annuncia essere anche maggiore nei prossimi anni io spero ritroveremo Eduard Louis ma questa volta nella veste di attore voi sapete che la milanesiana piace approfondire verticalmente i temi piace rinvitare gli stessi autori provocarli su nuovi temi qui lo vogliamo vedere nella veste di autore e quindi di scrittore in dialogo con i fratelli di Innocenzo che sono registi affermati apprezzati sulla scena internazionale e sono anche scrittori hanno pubblicato un libro molto bello di poesie quindi sempre il cinema incontra un'altra arte in questo caso la letteratura quindi lui e i fratelli di Innocenzo dialogheranno sulla complessità della città e qui entriamo nel tema che voleva che ha sottolineato proprio il sindaco Sala e parleranno su questa complessità che va dalla banlie parigina fino alla provincia romana e a seguire un concerto scoppiettante che è una sfida i tre allegri ragazzi morti contro gli extraliscio cioè un duello tra il punk e la tradizione starà a voi definire qual è il punk e quale la tradizione la serata è in collaborazione con MM il 10 giugno alle 12 sempre a Milano presso la fondazione AM presieduta da Alberto Martinelli continueremo a raccontare la città e a raccontare il futuro di Milano con dei protagonisti della vita economica e culturale che vedete alle mie spalle nella slide alle 21 sempre del 10 al Cinema Mexico omaggeremo uno scrittore che è legato a Milano e autore Umberto Simonetta e con lui festeggeremo la Milano degli anni 60 quella di Gaber quella della ballata del Cerutti ancora un appuntamento stavolta in chiave storico letteraria su Milano e la città nel dialogo tra il musicista e autore Luca Sandri e Piero Colaprico si innesterà anche un intervento una lettura un racconto di Pacifico che invece ci parlerà di una Milano che ha visto con gli occhi di una famiglia napoletana la sua quella che nel suo libro è la mia famiglia di barbari che a Milano è immigrata ed è una giornata questa dedicata alla cultura e al canto popolare nel senso più stretto del termine perché colminerà con il concerto delle mondine di Novi dirette da Gianluca Magnani e con i Flexus sono riuscita a convincere un numero cospicuo di mondine che verranno e anche questo è la testimonianza di un dialogo ideale non solo tra le città ma anche tra le regioni tra Lombardia e Emilia il 13 giugno uno degli appuntamenti più attesi di questa milanesiana e anche qui ringrazio il Comune di Milano ci sarà il premio Nobel per la letteratura 2021 Abdurrazzak Gurnah nato a Zanzibar e questo è il suo primo viaggio in Italia oltre che per il prestigio dello scrittore e questo viaggio è anche l'unico che farà in Italia cioè sarà solo a Milano l'opera di Gurnah io credo che esprima pienamente il tema di questa milanesiana cioè omissioni infatti ha raccontato le guerre che sono nate a causa della politica coloniale dei paesi orientali in Africa e tutta la sua scrittura è anche un confronto doloroso col tema delle omissioni Gurnah dialogherà con lo scrittore premio strega Paolo Giordano sarà presente il ministro della cultura Dario Franceschini l'incontro è in collaborazione con Book City collaborazione che è suggellata dalla presenza e dall'intervento del presidente di Book City Pier Gaetano Marchetti e verrà conferito a Gurnah dal comune di Milano il sigillo della città il concerto sarà a cura del pianista e compositore statunitense Uri Kane dal titolo Change e l'incontro è anche in collaborazione con l'Università Statale di Milano Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere martedì 14 giugno torneremo allo Streller con l'anteprima a Milano di uno spettacolo teatrale Amistade fratto X di Antonio Rezza e Flavia Mastrella che sono come sapete leoni d'oro per il teatro con innesti di filmati e della voce di Fabrizio De Andrè questo spettacolo che si vede per la prima volta a Milano è stato solo rappresentato in una prova generale in Sardegna in collaborazione con la fondazione Fabrizio De Andrè ed è una produzione di Sardegna Teatro aprirà la serata un dialogo tra Dori Ghezzi con Armando Besio sempre martedì 14 giugno alle 18 al teatro Parenti allargheremo il racconto della città alla regione Lombardia con Giordano Bruno Guerri Pier Gaetano Marchetti Stefano Zecchi Alberto Martinelli Ada Gigli Marchetti e Stefano Bruno Galli invece alle 18 del giorno 15 nella sede della centrale dell'acqua di MM ricorderemo ancora la milanesiana di memoria Giovanni Falcone a 30 anni dalla sua morte insieme a due personalità che hanno lavorato con lui sono Livia Pomodoro e Claudio Martelli che sono stati stretti collaboratori al Ministero di Grazie e Giustizia nell'ultima stagione della vita del magistrato la guerra alla mafia e le tante omissioni che la hanno accompagnata saranno al centro di questo incontro il grazie il 15 giugno in serata presso il cortile dell'incoronata del Cinemanteo una nuova sede della milanesiana ospiteremo Claudio Magris e Paolo Di Paolo che declineranno il tema delle omissioni nel rapporto tra letteratura e vita e in uscita un libro dei due autori Inventarsi una vita concerto del duo Antonio Ballista Bruno Canino incontro in collaborazione con Fondazione Cariplo il 16 giugno la classica Alexio di Massimo Cacciari su una delle traduzioni possibili del tema omissione il rapporto tra memoria e oblio e il concerto di Ramin Barami pensato su questo tema in collaborazione con Fondazione BPM venerdì 17 al Cinemanteo ancora il cinema protagonista ospiteremo il regista mai allineato e sempre scomodo Abel Ferrara con un prologo poetico di Gabriele Tinti e la visione di uno dei film che di Abel Ferrara più amo The Addiction del 1995 un regista che omette pochissimo e Abel Ferrara verrà conferito il premio omaggio al maestro tradizionale riconoscimento a una figura del mondo del cinema della milanesiana prima di questo prologo poetico un cortometraggio di Chiara Caselli Molly Bloom del 2016 tratto dall'Ulisse di Joyce e l'Ulisse quest'anno compie 100 anni e la presenza dell'Ulisse attraverserà questa milanesiana il 18 giugno apriremo la terza mostra della milanesiana con le sculture di Joe Endoro Joe Endoro nello spazio Vic in galleria è un nome d'arte questo dietro il quale si cela ma neanche tanto un imprenditore e scrittore Enea Trevisan ed è uno scultore di Pietrasanta che lavora il marmo guardando alla tradizione ma con una sensibilità contemporanea alle 21 sempre di questa giornata al conservatorio un omaggio doveroso a Franco Battiato che ha disegnato e ha voluto la sua rosa per questi 23 anni con letture scelte pensate per l'occasione sarà da non perdere questa serata da Fabrizio Gifuni che leggerà reciterà anche alcuni inediti rarissimi di Franco Battiato e un concerto dal titolo Canto Fermo le musiche classiche di Franco Battiato pensato da Carlo Boccadoro amico complice esegeta di Franco Battiato con Carlo Boccadoro al pianoforte Andrea Rebaudengo al pianoforte Antonio Ballista al pianoforte Lorna Windsor voce e soprano ricorderemo Battiato attraverso le sue opere classiche che sono state meno frequentate ZA Sud Afternoon Caffè Table Musica e ricordare così Franco mi sembra il primo antidoto contro le omissioni della memoria domenica 19 giugno saremo al Cinema Mexico ancora per la sezione cinema con una straordinaria regista cinematografica ma anche produttrice attrice che sta intervenendo con molta energia nel mondo culturale italiano si tratta di Michela Cescon del suo Occhi Blu con Michela interverrà Valeria Golino interprete del film il direttore della fotografia straordinario Matteo Cocco che è anche il direttore della fotografia di Molly Bloom di Chiara Caselli il violoncellista Luigi Piovano che eseguirà dal vivo le musiche del film e coordinerà l'incontro il direttore di film tv Giulio San Giorgio lunedì 20 e 21 la milanesiana si sposterà di qualche chilometro da Milano per arrivare in Brianza a Seregno per la prima volta a Seregno hanno già inaugurato le mostre dedicate all'artista Luca Crippa in occasione del centenario della sua nascita qui la mia fondazione ha dedicato un catalogo ma porteremo due straordinarie serate presso il teatro San Rocco il 20 giugno ci sarà il dialogo tra Yanis Varoufakis e Vinicio Capossela coordinato da Candida Morvillo sul rapporto tra economia e giustizia sociale e con un concerto di Vinicio Capossela seguire proietteremo in debito il film di Andrea Segre del 2013 un documentario sul rebeticò che è una particolare forma di musica di genere blues che ha origine in Grecia e sullo sfondo del film ci sta la terribile crisi economica protagonista del film che è prodotto da Iole Film e distribuito da Nexo è Vinicio Capossela il 21 giugno sempre a Seregno e sempre al teatro San Rocco avremo le letture del premio Pulitzer Andrew Sean Greer della scrittrice americana pubblicata da Feltrinelli che ora vive a Milano Lisa Alliday e di Enrico Rottelli scrittore e collaboratore del Corriere della Sera seguirà il concerto di Vasco Brondi dal titolo L'arte di perdere intanto il 21 giugno ma anche il 22 e il 23 alle ore 12 a Milano nel santuario San Giuseppe in collaborazione con Intesa San Paolo avranno luogo gli incontri della sezione diritti e doveri a cura di Pier Gaetano Marchetti Pier Gaetano dialogherà con la scrittrice Edith Brook che oggi compie gli anni sul diritto e il dovere della memoria a Edith Brook verrà conferita la rosa d'oro della milanesiana il 22 giugno Pier Gaetano Marchetti dialogherà con due importanti scrittrici Ludmila Uliskaya e Elena Kostiukovic sui diritti e i doveri della letteratura in rapporto alla guerra infine il 25 giugno dialogherà con Pasquale Stanzione presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali e con Franco Toffoletto gius lavorista amico e sostenitore della milanesiana ogni incontro vedrà anche un concerto della pianista compositrice e cantante di Vittoria in provincia di Ragusa Giuseppina Torre dal titolo Viaggio nei labirinti della mente la saluto in sala e vi chiedo un applauso per lei ringrazio ringrazio con l'occasione Riccardo Vitanza che da quest'anno coordinerà con parole ed intorni l'attività di ufficio stampa di un lungo festival ha avuto il coraggio di accettare questa proposta perché il lavoro è davvero complesso e ringrazio Tina Guiducci che quest'anno ha passato la mano dopo 22 anni da mercoledì 22 giugno a venerdì 24 giugno torneremo nella magnifica cornice del cortile dell'Almo Collegio Borromeo grazie al rettore per me magnifico Alberto Lolli il 22 giugno ospiteremo all'Almo Collegio Borromeo è una serata davvero importante il due volte premio Pulitzer Yobi Warwick che ha dedicato libri fondamentali alla guerra dell'Isis e alla guerra in Siria Warwick incontrerà una giornalista investigativa coraggiosissima che è andata contro Putin Catherine Belton che ha dedicato un libro inchiesta tradotto in tutto il mondo appunto al cerchio magico di milionari intorno a Putin avevano cercato di censurare l'uscita di questo libro lei ha vinto la causa e ora anche noi lo abbiamo ristampato senza tutte le cose emendate per questo libro Catherine Belton ha ricevuto nel 2021 il prestigioso Magnisky Human Rights Award per il giornalismo investigativo Belton e Warwick collaborano al Washington Post con loro un altro giornalista che non ha mai fatto sconti al potere che è Ferruccio De Bortoli dopo le letture a questo stiamo lavorando da almeno due anni in anteprima assoluta un'opera musicale composta da Fabio Vacchi ispirata proprio a Bandiere Nere di Joby Warwick che mi auguro girerà nei teatri non solo italiani il concerto prevederà la voce narrante Agnese Nano il pianoforte Eric Berch e il racconto per immagini di Teo Volpatti giovedì 23 giugno sempre al collegio Borromeo insisteremo sul tema delle omissioni con quattro scrittrici donne la scrittrice russa che ha criticato Putin Ludmila Uliskaya che avremo visto anche col professor Marchetti nella sezione diritto la scrittrice britannica Elisabeth Dei Lucrezia Lerro e Leila Slimani e la scrittrice Franco Marocchina premio Goncourt che è stata nominata dal presidente Macron rappresentante della francofonia nel mondo il concerto sarà di Paolo Fresu ringrazio Niri Pozza e Giuseppe Russo per la collaborazione il 24 giugno altra serata eccezionale a Pavia il tema del linguaggio sarà al centro della conversazione tra uno dei più grandi linguisti al mondo Noam Chomsky e il linguista filosofo romanziere Andrea Moro e a seguire lo spettacolo anche questo in anteprima il quaderno di Econsogna Bergamasco sabato 25 giugno la milanesiana torna alla reggia di Veneria con un duplice appuntamento la inaugurazione della quarta mostra della milanesiana dedicata a Linus e ai cento anni del creatore dei Pinats Charles Schulza ed esporremo questa è una mostra da non perdere con un percorso ragionato a cura di Igort e Stefania Rumor e con l'allestimento di Luca Volpatti le copie originali di tutti i numeri di Linus dalla sua creazione dal 1965 quindi una storia di taglia attraverso 684 numeri originali di Linus e a seguire lo spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi intitolato Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show come sempre un graditissimo ritorno torneremo a Milano il 26 giugno nella bella cornice del teatro Girolamo grazie al supporto del nuovo direttore artistico del teatro Piero Colaprico e sarà una serata in collaborazione con il nuovo parter che vi dicevo della milanesiana è Alixir dedicata al tema del diritto all'oblio dei nostri dati personali questione che ha molto a che vedere con le omissioni ci saranno Guido Brera Maurizio Ferraris Pier Gaetano Marchetti Enea Trevisan il critico musicale di musicale Michele Monina e anche Bruno Giurato con un concerto a chiudere di Giovanni Caccamo lunedì 27 e martedì 28 giugno torneremo ad Alessandria ma quest'anno con due appuntamenti anche Alessandria chiede un pochino più di milanesiana gli appuntamenti saranno dedicati a due personalità per le quali ricorrono due anniversari ai 100 anni della nascita di Pier Paolo Pasolini di cui parlerà Vittorio Sgarbi in un suggestivo confronto con opere di Caravaggio e non solo e Umberto Eco che quest'anno avrebbe che è di Alessandria nato ad Alessandria che avrebbe compiuto 90 anni e di cui Vincenzo Trione e Mario Andreose che saluto in sala racconteranno il rapporto con l'arte in occasione dell'uscita di un monumentale libro di Eco di più di mille pagine che raccoglie i suoi scritti editi e inediti sull'arte a cura appunto di Vincenzo Trione mercoledì 29 giugno saremo a Bassano del Grappa torneremo a Bassano del Grappa per ricordare il grande Enzo Iannacci con lo spettacolo di Elio delle storie tese Elio canta e recita Iannacci con la regia bellissima regia di Gallione a marzo del 23 saranno i dieci anni dalla sua morte noi partiamo ricordando gli anniversari con un poco di anticipo grazie oltre che alla città di Bassano anche all'amica Francesca Masiero per il sostegno dal 30 giugno al 4 luglio saremo ad Ascoli Piceno una città del cuore con cui rinnoviamo una collaborazione molto solida cinque serate una mostra la quinta di questo viaggio continuiamo a raccontare la fotografia di Carlo Verdone con nuovi scatti raccolti proprio in nome del tema delle omissioni grazie della tua presenza raccolti sotto il titolo I colori del silenzio e Carlo Verdone sarà protagonista il 30 giugno al teatro Ventidio Basso insieme a Paolo Mereghetti e si racconterà divertendo il pubblico l'1 luglio a 40 anni dalla vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82 Federico Buffa presenterà il suo spettacolo Italia Mondial ancora un anniversario lo spettacolo sarà preceduto da un dialogo di Maurizio Crosetti e Dino Zoff portiere e capitano di una leggendaria impresa il 2 luglio sempre al Ventidio Basso ospiteremo il cantautore e romanziere è nato in Albania Ermal Meta in dialogo con Luca Bottura giornalista satirico scrittore conduttore radiofonico un incontro che si chiuderà con un breve concerto di Ermal Meta prima che inizi la sua grande tournée in Italia e il 19 maggio uscirà il primo romanzo di Ermal Meta domani e per sempre che sta riscuotendo i consensi di molti editori europei è stato acquisito da Anser con grande entusiasmo Anser in Germania è l'editore di Magris e di Umberto Eco il 3 luglio sempre a Ascoli e al Ventidio Basso ascolteremo Il mare di Napoli altra serata straordinaria avremo il concerto avvenne a Napoli passione per voce e piano di Edoardo De Crescenzo che è uno dei grandi interpreti della musica italiana e Juan Oliver Mazzariello Edoardo De Crescenzo interpreterà venti canzoni della grande tradizione della musica napoletana di fine ottocento e prima metà del novecento il prologo sarà di uno scrittore amatissimo ad Ascoli Maurizio De Giovanni e dello scrittore storico della musica napoletana Federico Vacalebre proietteremo un gioiello proietteremo in quella serata che è un cortometraggio disegnato da un grande disegnatore che Michele Bernardi è ispirato alla canzone Mare Chiare il 4 luglio Vittorio Sgarbi racconterà Raffaello nell'omonimo spettacolo sempre al ventidio basso insomma un programma ricchissimo tra musica letteratura appunto cinema arte e sport grazie come sempre a Francesca Filauri e a Stefano Pappetti oltre che alle istituzioni di Ascoli e alla regione Marche tireremo il fiato due giorni prima di ritrovarci a Milano per una nuova e spero fruttuosa collaborazione con Volvo e Volvo Studio sono due appuntamenti molto pensati dedicati alla scienza e alla musica di respiro internazionale di cui sono molto orgogliosa il 7 luglio alle ore 21 Pier Giorgio Odifreddi e Hervéle Tegliè si confronteranno sul tema dei numeri e i paradossi della fisica i temi che sono al centro dell'anomalia il romanzo best seller internazionale di Hervéle Tegliè che ha vinto il premio Goncourt nel 2020 e a seguire il concerto elettrico dovrete venire a sentirlo per capire perché Romantic Robot di Extraliscio e l'8 luglio alle 21 il neuroscienziato Giorgio Vallortigara pubblicato nella prestigiosa biblioteca scientifica di Adelphi l'ornitologa scrittrice Jennifer Ackerman che ha studiato il linguaggio degli uccelli e Andrea Moro che già prima vi ho presentato in un intervento tra musica e parole di Enrico Ruggeri e poi una mostra anche qui una Volvo d'epoca con un testo in catalogo dello scrittore Aurelio Picca la Volvo P 1800 che ha oltre mezzo secolo di vita resa celebre dalla serie tv con Roger Moore Il Santo e quindi è nata questa bella collaborazione con Volvo ringrazio Chiara Angeli con cui è scaturito un dialogo concreto e con principi e valori condivisi Il 9 luglio proseguiremo il viaggio nella scienza in Italia saremo a Firenze in collaborazione con la fondazione Meyer dove il professor Donzelli affronterà il tema della cura in un Alexio Magistralis a seguire un concerto di grande respiro che sarà una cura per lo spirito di Extraliscio con l'orchestra Maderna diretta da Roberto Molinelli e la partecipazione speciale del musicista tedesco Peter Pickler e del suo Trautonium che è un rarissimo sintetizzatore elettronico inventato nel 1930 è un evento che questo strumento salga su un palcoscenico ci saranno 35 elementi che sono dentro l'orchestra Maderna nella bellissima cornice del chiostro di Santa Maria Novella domenica 10 luglio e lunedì 11 luglio saremo di nuovo a Milano per due anteprime al teatro Noma presenteremo lo spettacolo di Mauro Kovacic dedicato a James Joyce in occasione del centenario della prima edizione dell'Ulisse come vi dicevo sarebbe stato un motivo sotterraneo del festival e l'11 luglio saremo al Cinema Mexico dove presenteremo un progetto davvero ardito alla vecchia maniera tra cinema e musica il film Dracula del 31 di Todd Browning con una sonorizzazione dal vivo lo avevamo fatto un'altra volta con John Zorn ci saranno Massimo Zamboni chitarra e voce Cristiano Roversi alla tastiera e Simone Benvenuti percussioni e vibrafono dal 12 al 18 luglio saremo in sei città dell'Emilia Romagna dove sono nata per continuare questa collaborazione con la regione per cui ringrazio il presidente Stefano Bonaccini l'assessore Corsini e Alberto Cassani che qui è saluto scopriremo sei città dell'Emilia e della Romagna scopriremo città importanti piene di storia il 12 luglio saremo a Faenza in Piazza Nenni per il concerto dei tre allegri ragazzi morti e Fitta una canzone o due di Extraliscio perché nel nuovo album di Extraliscio di cui non potevo non parlare Romantic Robo in uscita il 6 maggio ci sarà proprio un brano meraviglioso che vi consiglio di ascoltare di Davide Toffolo Davide Toffolo è un intellettuale è un disegnatore straordinario è uno scrittore è un musicista ed è il leader dei tre allegri ragazzi morti e questo brano che vi dicevo è la gazza chiacchierona pieno di ironia di sensibilità e di spirito di sovversione femminili il 13 luglio saremo a Imola la Rocca Sforzesca con il premio Goncourt Tarben Gelun e Lorena Cesarini voi avrete visto alcuni di voi il festival di Sanremo Lorena Cesarini a sorpresa ha letto un lungo brano dal bestseller longseller di Tarben Gelun il razzismo spiegato a mia figlia poi il libro è schizzato in classifica perché il festival di Sanremo è miracoloso non si erano mai incontrati si incontrano con emozione in questa sede per la prima volta e chiuderà il concerto il musicista e scrittore siriano Aema Amad che ha resistito col suo pianoforte alla distruzione di Damasco Amad ha continuato a esibirsi tra le macerie diventando il simbolo della resistenza a tutte le guerre nelle sue esecuzioni quindi sentiremo gli echi di Mariupol Odessa e delle altre città dell'Ucraina sotto attacco inoltre presenteremo in anteprima la bandiera disegnata da Tarben Gelun sono cose che possono accadere solo alla milanesiana per la città di Feltre quindi un dialogo anche con una nuova città il 14 luglio saremo per la prima sapete che Tarben Gelun di cui abbiamo fatto alcune mostre alla milanesiana è un pittore disegnatore straordinario oltre che un grande scrittore il 14 luglio saremo per la prima volta a Bagno di Romagna in piazza Ricasoli sempre con Federico Buffa il 15 luglio torneremo a Cervia nella cornice di piazza Garibaldi per uno spettacolo a sorpresa del duo Leone d'oro alla Biennale Teatro Rezza Mastrella e non sarà lo stesso che vedremo a Milano il 17 luglio torneremo a Gatteo a Mare all'Arena Rubicone per uno spettacolo tra musica e testi di Enrico Ruggeri ed Enrico dialogherà con lo scrittore Alberto Cassani il 18 luglio infine saremo a Dozza in piazza Zotti uno dei borghi più belli d'Italia nota per i suoi murales oltre che per la rocca medievale e Vittorio Sgarbi terrà il suo spettacolo su Caravaggio martedì 19 luglio torniamo a Milano nel cortile di Palazzo Reale per un incontro molto nello spirito della milanesiana sul tema delle omissioni il premio Nobel John Cozie dialogherà con Sandro Veronesi viene appositamente per la milanesiana dove è stato più volte che un festival chiama moltissimo dall'Australia e ci sarà il concerto del premio Paganini un giovanissimo violinista premio Paganini 2021 Giuseppe Gibboni e ringrazio Imars per avere fatto sì che fosse presente una serata in collaborazione con Damman Frer di Riccardo Illi che interverrà prima dell'incontro mercoledì 20 luglio sempre a Milano e al Cinema Mexico l'anteprima mai visto prima il film del nuovo film di Flavia Mastrella Gli animali leggono la Costituzione da giovedì 21 luglio saremo in Valtellina per otto date questa collaborazione iniziata alcuni anni fa con Bormio si è davvero molto intensificata grazie alla grande passione di Paola Romerio Bonazzi e quest'anno a Bormio si è unita Livigno di cui saluto il sindaco avremo una milanesiana di otto giornate cinque a Bormio e tre a Livigno a Bormio nella cornice della piazza del Querce giovedì 21 luglio inaugureremo la sesta mostra della milanesiana le grandi tele di Francesco Tricarico voi sapete che Tricarico è un ottimo cantautore ma è anche un ottimo pittore Tricarico contro Tricarico è il titolo poi il 21 luglio l'Alexio su Raffaello di Vittorio Sgarbi il 22 luglio a Bormio ospiteremo il premio Pulitzer Michael Cunningham e Nuccio Ordine con ancora un concerto di Paolo Fresu il 23 luglio sempre nella piazza del Quercia sarà la volta dello sport e mi fa piacere annunciare questo appuntamento Bormio sarà città delle prossime olimpiadi invernali e noi ospiteremo è stato complesso convincerla la cinque volte olimpionica e membro del comitato olimpico internazionale Federica Pellegrini in dialogo col direttore della gazzetta dello sport Stefano Barigelli e il premio strega Edoardo Nesi il 24 luglio sempre nella piazza del Quercia lo spettacolo di Genegnocchi se non ci pensa Dio ci penso io e dal 25 luglio ci sposteremo a Livigno nello spazio del Cine Lux avremo il concerto per pianoforte voce di Alice Carlo Guaitoli Alice Canta Battiato il 26 luglio ho realizzato un appuntamento che rincorrevo da anni un concerto di Cristina D'Avena preceduto da un dialogo tra Cristina e sua sorella Clarissa D'Avena donna interessante da scoprire coordinato dalla scrittrice e giornalista Marianna Aprile il 27 luglio sempre al Cine Lux l'economia sarà protagonista con un confronto tra Carlo Calenda e Alan Friedman coordinato sempre da Marianna Aprile giornalista e scrittrice appunto concerto del pianista Ramin Barami e a Bormio fiorirà anche fisicamente la rosa la rosa illuminata la mia fondazione insieme a Marco Lodola farà dono la città di Bormio della rosa dell'artista appunto Marco Lodola e il 22 la sveleremo nei giardini di piazza 5 Alpini a Bormio quindi la rosa oltre che in Emilia oltre che a Ascoli oltre che appunto qui a Bormio appunto continua a sbocciare in varie città torneremo dalla Valtellina per andare a Venezia venerdì 29 luglio nella sede di Cassagredo dove inaugureremo la settima mostra della milanesiana dedicata a un pittore austriaco Ignazio Stern che ha molto lavorato in Italia tra Roma e l'Emilia nato nel 679 e morto nel 1748 mostreremo un nucleo di opere di questo pittore che è capace di dipingere straordinari angeli e straordinari cieli blu sono opere della fondazione Cavallini Sgarbi vincolate dal Ministero interverrà Vittorio Sgarbi Pietro Di Natale che è il curatore della mostra e ci sarà un concerto al pianoforte di Renato Caruso che è in sala e saluto chiuderemo la milanesiana Gardone Riviera al vittoriale degli italiani con un grande concerto il concerto del violinista di Beirut Ara Malikian ancora l'eco di un paese martoriato da guerre e conflitti ed è un appuntamento in collaborazione con il Festival della Bellezza qui finisce la milanesiana estiva ma ritornerà in autunno e ritorneremo a Ascoli Piceno per una grande festa del fumetto e di Linus in particolare in collaborazione con Linus con il Ministero della Cultura e con la Fondazione Elisabetta Sgarbi la cura della mostra sarà di Laura Valente ma ci sarà tempo per parlarne quindi due mesi di incontri più il lampo autunnale ribadisco 20 città italiane oltre 150 ospiti 63 appuntamenti 8 anteprime 9 mostri e ne sono contenta è un ritorno quantitativamente importante a Milano in molti luoghi della città accogliendo anche le intenzioni del nuovo assessore Tommaso Sacchi che ha visto crescere la milanesiana tra Milano e Firenze e Milano lo sottolineo con la milanesiana viaggia in Italia offrendo una bella immagine di sé la milanesiana non può cambiare nome nasce a Milano e viaggia e incontra tutte le città italiane che si propongono per accoglierla ringrazio IMARS International Music di Francesco Cattini che ci segue dal punto di vista amministrativo e logistico e produttivo uno sforzo importante che Franz Cattini condivide con le ragazze di IMARS ringrazio sempre Luca Volpatti per la sua regia per la cura con cui segue gli allestimenti di così tante mostre grazie ancora a parole di intorni grazie al comitato editoriale che meriterebbe di essere nominato ad uno ad uno di salire sul palco perché il lavoro è in mane un avviso in pieno spirito della milanesiana il 5 maggio sono sicura che il professor Marchetti verrà alle 11 al teatro Filodrammatici ci sarà la presentazione ufficiale alla stampa e agli amici del nuovo album di extraliscio Romantic Robo non ci siamo risparmiati ma risparmiarsi nelle cose della cultura non è mai una cosa buona grazie 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 alle autorità che stanno andando e allora vorrei dare la parola subito a André Ruth Shammah perché il suo intervento è fondamentale per salire si passa da dietro non c'è più ah no io vorrei che venissi qua comunque fai dalla sala ti diamo il microfono solo per dire solo per dire che non so se 23 anni fa già quando ho cominciato la milanesiana già eravamo coinvolti ma io ho vissuto sulla mia pelle il metodo di non fermarsi di Elisabetta Sgarbi era impossibile ospitare questo spettacolo costava tantissimo Ostermeyer faceva una serie di capricci lei non si è fermata mai diceva ma guarda ma non abbiamo i soldi costa tantissimo chiedono continuavano a chiedere e io continuavo a dire ma non è giusto in fondo c'è un un grande autore però lo spettacolo è troppo complicato per presentare allora ho accettato di parlare anche se assolutamente sproporzionato che io dopo questo elenco parli di uno di questi fatti ma perché quel fatto ha richiesto due mesi di un non si sa non guardare la realtà la realtà diceva a lei e a me non si può fare non lo facciamo Elisabetta cosa facciamo? Va bene niente un minuto dopo aver detto non lo facciamo dicevamo ma dai proviamoci allora si provava insomma volevo solo raccontare se l'elenco che ha fatto Elisabetta non è bastato a capire come lei lavora ecco non guarda la realtà lei non sa dov'è va avanti e se le inventa come vuole lei grazie Elisabetta però con un'attenzione ai numeri grazie anche da dire che ha trovato un'altra come me perché se no uno poteva dire Elisabetta vai a quel paese a quel paese un po' un po' delle volte lo penso un pochino capita sì sì allora cedo la parola a Dario Bollis direttore comunicazione relazione esterna fondazione Cariplo che mi ha molto aiutato e sostenuta in questa milanesiana grazie 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 anche io non so cosa sono venuto a fare Elisabetta dopo tutti quelli che hanno parlato due domande però faccio l'intervistatore uno come fate perché poi chi fa il nostro mestiere lo sa io ogni tanto quando chiamo Elisabetta ho degli episodi come quelli che ha raccontato Ruth ti da delle risposte poi dopo nel frattempo parla con altre cento persone io però una riflessione la volevo fare perché la milanesiana alza sempre la sticella tutti gli anni e so che lo stai pensando lo stai andando lontano geograficamente io credo che adesso abbiamo un altro impegno di provare a portare a questi appuntamenti le persone che normalmente non ci vanno cioè quelle che alla fine non masticano non si nutrono di cultura che è la cosa più difficile qualche tempo fa come esempio ti ho raccontato di questa idea dove c'erano delle persone che dormivano per strada quindi delle persone che io ritrovo tutte le mattine quando dalla stazione centrale vengo in ufficio e abbiamo pensato di sostenere un progetto di fotografia e io dicevo ma anche questa mi sembra una follia cioè gente che non ha una casa e non ha un posto e non ha neanche da mangiare e abbiamo fatto e quando ho incontrato queste persone effettivamente ho capito che era giusto fare quella cosa che sembrava una follia perché queste persone si alzavano la mattina per andare in giro con una macchina fotografica e hanno ritrovato la voglia di vivere e poi hanno ritrovato un lavoro e hanno ritrovato qualcos'altro ora non so se riusciremo ad alzare la sticella però se dobbiamo andare in una direzione dobbiamo andare in quella direzione lì cioè provare a arrivare veramente lontano verso le persone che di solito non vanno a questi incontri grazie 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 a Dario Bolis chiamo Francesco Mazza Chief Strategy Officer di Alixir buongiorno 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 noi come Alixir siamo molto orgogliosi di collaborare con la milanesiana siamo un'azienda nata nel 2018 quindi molto giovane che però lavora in tutto il mondo e soprattutto è quotata all'indice OTC di Wall Street e però tra tutte insomma le iniziative che facciamo da nessun'altra parte del mondo c'è qualcosa come la milanesiana e quindi siamo molto orgogliosi di questo soprattutto perché poi siamo milanesi noi ci occupiamo di identità digitale di diritto all'obbligo applicato al web web reputation rimozione di contenuti dalla rete lesiva della persona come ad esempio il revenge porn e il nostro compito sarà quello di aiutare la milanesiana e riflettere su quelli che sono i temi della milanesiana applicati alla realtà che viviamo oggi dove la differenza tra virtuale e reale diventa sempre più sottile fino a scomparire e dove diventa sempre più difficile trovare un punto di caduta giusto tra diritto alla condivisione e diritto alla privacy o come è stato detto tra memoria e ublio grazie grazie chiara angeli sales and marketing director volvo cars italia buongiorno buongiorno a tutti e buongiorno a Elisabetta allora devo tenerla ok allora quello che io vorrei dire come prima cosa è un grazie a Elisabetta Sgarbi l'ho sentita descrivere con tanti sostantivi oggi sicuramente determinazione e tanti altri quello che ha colpito di più me è la passione la passione che lei ha dimostrato in una maniera quasi un vortice è stata una cosa che ci ha veramente travolto quando parlava della melanesiana e la seconda cosa che mi preme sottolineare è la condivisione di valori questo è il motivo per cui Volvo ha deciso di far parte di questo progetto incredibile per cui per due ore abbiamo avuto una pioggia di descrizioni di eventi noi siamo un'azienda che si trova a Bologna ma qualche anno fa abbiamo deciso di aprire uno spazio di brand a Milano Milano perché è la città più contemporanea e qui mi riallaccio assolutamente a quanto è stato detto prima ma Milano anche perché è un crogiolo di informazioni di cultura di valori rappresenta veramente la città che più di ogni altra si porta verso l'Europa e quando Elisabetta ci ha chiesto di collaborare ci ha proposto di collaborare ne siamo stati onorati perché i valori si trasmettono soltanto tramite un canale che è la cultura e quindi ospitare la cultura significa dare la possibilità di parlare dei propri valori di brand in una maniera che non viene definita commerciale senza svilirli se quei valori sono dei valori nei quali ci si crede come la centralità della persona al rispetto della persona al rispetto per l'ambiente allora bisogna essere pronti anche a usare un linguaggio diverso dal linguaggio commerciale e affidarsi a chi come Elisabetta questo linguaggio lo mastica più di tutti gli altri quindi grazie mille grazie Chiara Chiara Angeli chiamo Fabrizio Paschina Executive Director Comunicazione Immagine per Intesa San Paolo buongiorno a tutti prima pensavo che settimana scorsa ero da Andresa ma perché c'erano i 50 anni e la cosa che mi è venuta in mente è l'energia positiva oggi c'è energia positiva al cubo per me qui perché l'Andre che abbiamo visto l'Elisabetta con cui siamo all'ottavo anno di Sodalizio per il decimo dovremmo noi inventarci qualcosa in più per te e la terza io sono un fan da sempre di Nino Migliori e quindi per questa cosa qua ancora un applauso a Nino Migliori quasi commosso ringrazio Elisabetta per questo grandissimo regalo grazie e buon lavoro a tutti grazie Fabrizio Pietro Boiardi amministratore delegato di Milano Seravalle eccolo buongiorno buongiorno a tutti e buongiorno in particolare grazie alla dottoressa Sgarbi che anche quest'anno ha messo Milano al centro diciamo di una cosa così speciale come la Milanesiana un laboratorio appunto di eccellenze che anche quest'anno si ripete noi conosciamo la Milanesiana come un progetto che è nato appunto da un'intuizione della dottoressa per far incrociare e diciamo far parlare far dialogare arti diverse però abbiamo continuato a conoscerlo in questi anni come un progetto che ha saputo ripensarsi ogni anno in quale senso nell'allargare i propri ambiti di intervento che sono appunto partiti dalla letteratura dalla musica dal cinema e oggi sono arrivati appunto a tutti gli altri ambiti che abbiamo citato precedentemente sono stati citati addirittura appunto trovando ogni anno un tema particolare che poi va a far sì che si possano avere l'eccellenza del mondo della cultura del mondo della scienza che intervengono e danno la loro testimonianza e come si diceva precedentemente contaminano diciamo l'evento per arrivare addirittura a nascere come un evento di radice lombarda milanese lombarda ed essere arrivato diciamo per la sua importanza la sua rilevanza ad essere un evento nazionale e internazionale allo stesso tema per cui mi sento di dire che proprio dette queste cose unite al fatto che la radice diciamo milanese lombarda è comune anche alla nostra società l'essere diciamo costantemente in movimento è una cosa che ci accomuna come appunto anche i valori seppur in ambiti diversi diciamo è molto facile capire perché anche quest'anno Milano Serravalle e Milano Tangenziale ha voluto essere fortemente al fianco della milanesiana quindi mi sento di ringraziare ancora la dottoressa Sgarbi e fare un grandissimo in bocca al lupo alla milanesiana 2022 grazie Luca Montani direttore comunicazione relazioni istituzionali MMSPA eccolo buongiorno buongiorno a tutti intanto per noi non è un piacere non è un onore è quasi un obbligo esserci perché MMS accompagna da circa 70 anni lo sviluppo di questa importante città ne accompagna altre e non poteva esimersi non può esimersi dall'essere presente in una cornice importante in una consegna importante come questa dirò di più ma sarò brevissimo sapete che abbiamo aperto un piccolo museo di impresa che nell'arco di un paio d'anni ha maturato 250-260 mila presenze si chiama Centrale dell'Acqua in piazza di Ocleziano quella è la sede di un ulteriore scambio di una ulteriore integrazione ecco ciò che affascina della milanesiana ciò che affascina di questo portento di donna che è Elisabetta Sgarbi è la capacità di mettere insieme relazioni energie suggestioni sincretismi questa è la città di Milano questa è Elisabetta Sgarbi grazie grazie Paola Romerio Bonazzi assessora della cultura del comune di Bormio e Silvia Cavazzi sindaco di Bormio buongiorno a tutti buongiorno buongiorno ciao Elisabetta buongiorno sono sono qua in tre versioni diverse ah scusa allora me ne manca una c'è anche Remo Galli scusami salite tutti insieme giusto appunto il sindaco di Livigno scusate che io andavo per ordine perché non erano sulla stessa riga sono sono molto onorata di essere qui prima di tutto come amica di Elisabetta grazie dopo sei anni la seconda cosa è che sono sei anni che porto la milanesiana a Bormio come Rotary Club Bormio Contea e quest'anno come assessore in più al comune di Bormio quindi sono veramente felice di questa nostra di questo nostro sodalizio di questa nostra amicizia quindi cedo immediatamente la parola al sindaco Silvia Cavazzi grazie 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 a tutti devo tenerla ok scusatemi metti togli ok faccio parte ormai della famiglia della milanesiana come diceva Paola ormai da cinque anni questo è il sesto e devo dire che sono onorata di rappresentare oggi la mia città paese di Bormio la magnifica terra di Bormio così veniva nominata nella storia ecco la magnifica terra della Contea di Bormio e onorate valli ospitare la milanesiana per noi ormai è una tradizione è un onore è una risposta è un modo per rispondere al bisogno di cultura e di come diceva il sindaco di Milano di dare una modalità di lettura alla contemporaneità quindi due parole per rappresentare Bormio cultura e sport cultura per la propria storia sport per quello che è il nostro prossimo futuro che sarà quello di essere venue olimpica Milano Cortina 2020 abbiamo detto il programma che oggi Elisabetta ci hai presentato diciamo che mi ha lasciato perché gli sponsor non sanno qual è il programma fino al giorno esatto quindi conferenza stampa è una delizia per loro vivere questo stupore di modo gentile per interfacciarsi lo sport in prima linea per dare questa lettura alla nostra scusate perché l'emozione è tantissima alla nostra vocazione che è veramente dedicata allo sport grazie grazie benvenuti grazie a voi Marcella Fratta il sindaco mi scusi salve intanto grazie è un orgoglio per Livigno essere qui presente Livigno è un paese siamo 1800 metri sul livello del mare saremo anche noi viennose olimpica saremo in relazione molto forte con Milano e quindi siamo orgogliosissimi di essere qui presenti per Livigno è la prima volta di un grande evento culturale quindi la ringrazio grazie a dottoressa Sgarbi sono io che ringrazio voi e quello che posso dire è sicuramente che ci piace l'obiettivo e ci piace l'obiettivo di fare rete dopo la pandemia in questo momento anche di difficoltà fare rete credo che sia la cosa più bella più importante e fatta con la cultura è la cosa fondamentale quindi davvero grazie e ci vediamo a Livigno grazie grazie a Remo Galli sindaco di Livigno ora Marcella Fratta assessore alla cultura di Sondrio amica della milanesiana bene buongiorno a tutti buongiorno sì decisamente mi rilascio al discorso precedente aspettavamo con trepidazione il programma e devo dire grazie Elisabetta per questo bellissimo programma non solo per la città di Sondrio ma per la nostra provincia quindi per Bormio e Livigno perché è un programma ricco e abbiamo bisogno di questi momenti noi come amministrazione comunale crediamo molto che si debba offrire alla comunità un momento di riflessione un momento di incontro la possibilità di riunirsi per riflettere io mi complimento in particolar modo per il tema il tema dell'omissione perché e riallacciandomi un discorso precedente del fatto di portare nuovo pubblico credo che questo tema dell'omissione debba diciamo promuovere un discorso forte nei confronti di quell'indifferenza che c'è a volte nella nostra società di quel pensare che ci sia qualcun altro che si possa occupare di certe cose noi lo vediamo anche nell'amministrazione a volte c'è poco impegno soprattutto da parte dei giovani quindi io mi auguro che questo discorso possa fare riflettere i giovani perché abbiamo bisogno di nuove energie anche per l'amministrazione pubblica abbiamo bisogno di un impegno forte perché la comunità va davanti bene e quindi questo tema credo che possa veramente aiutarci poi espresso nella varietà di ospiti perché appunto si rimane estasiati alle cifre che Elisabetta ha elencato perché veramente sapere che questo discorso viene riproposto con tanti ospiti così illustri in 20 città italiane è una cosa veramente bellissima quindi non possiamo che essere grati esprimere la nostra riconoscenza e dire grazie Elisabetta grazie Marcella voglio ringraziare anche perché mi dicono che non vogliono intervenire Francesca Filauri presidente associazione culturalmente insieme Ascoli è una tappa importante per la milanesiana e Stefano Papetti direttore della pinacoteca civica di Ascoli e cedo la parola a Alberto Cassani per la regione Emilia Romagna è anche uno degli ospiti della milanesiana quindi parla in doppia veste no parlo solo in una veste parliamo in una veste altrimenti mi imbarazzo va bene un dito di interesse che vorrei evitare no a parte tutto io sono veramente felice di essere qui oggi a rappresentare la mia regione a portarvi il saluto del suo presidente Stefano Bonaccini e dell'assessore Corsini che hanno voluto fortemente la prodo della pilanesiana in Emilia Romagna che è la tua l'ho detto dove sono nata a Ferrara appunto quindi diciamo era una prodo naturale siamo felici di avere costruito le condizioni perché si realizzasse io poi personalmente sono ancora più felice di essere qui perché seguo la milanesiana da quando è nata già allora conoscevo Elisabetta Sgarbi le sue doti non comuni sapevo di quanto che insomma fosse capace di fare cose straordinarie non c'è bisogno che mi dilunghi su questo aspetto la sua leggenda di pigrizia esatto sì proverbiale direi esatto e quindi non mi dilungo su questo ma insomma perché non a caso è uno degli elementi che è tornato con più frequenza in questa presentazione cioè le tue qualità quindi questo perché evidentemente una manifestazione come questa si regge sull'impegno di tantissime persone hai uno staff straordinario è fuori di dubbio ma se non ci fosse una donna al comando con le tue caratteristiche difficilmente si riuscirebbe a fare quello che invece si riesce a fare in Emilia Romagna è il terzo anno che arriva la milanesiana in questi tre anni compreso questo abbiamo costruito sedici tappe in dodici città ed è solo l'inizio abbiamo iniziato due anni fa che insomma era la milanesiana voleva essere anche per l'Emilia Romagna la riva della milanesiana il segno di una resistenza di fronte a un'emergenza drammatica l'anno scorso c'era il senso invece che insomma si poteva tornare alla normalità finalmente si vedeva la luce in fondo al tunnel e noi oggi siamo invece purtroppo ripiombati in un altro tunnel praticamente senza soluzione di continuità quindi il tema è come noi ci avviciniamo il più possibile a vedere la luce fuori da quest'altro tunnel così drammatico e tragico per non sprofondare comunque nella nella paura perché in fondo di questo stiamo parlando come sappiamo è in questi momenti che bisogna ci insegna la storia bisogna sapere reagire c'è bisogno di antidoti alla paura alla violenza l'arte la cultura la bellezza sono fondamentali da questo punto di vista per questo è importante che la milanesiana dia il suo contributo e con essa l'impegno di tutte le amministrazioni pubbliche la milanesiana garantisce i contenuti è una buona organizzazione le amministrazioni pubbliche devono investire sull'arte e sulla cultura perché questo sforzo sia davvero capillare qualcuno diceva anche prima bisogna comunque partire dalla città allargare il pubblico andare anche nelle piccole città per fare in modo insomma che come facciamo esattamente come facciamo cerchiamo di fare anche noi nel nostro piccolo Emilia Romagna anche attraverso la milanesiana proprio perché questo antidoto contro la paura e la violenza si rafforzi e ci faccia davvero vedere la luce fuori da questo tunnel noi ci siamo grazie 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 Alberto Federica Perel assessore alla pubblica istruzione della cultura e biblioteca di Seregno buongiorno buongiorno ciao Elisabetta buongiorno a tutti beh io sono molto felice ovviamente di essere qui oggi è un privilegio una grande soddisfazione essere finalmente entrati nel palinsesto della milanesiana tutto nasce dal caso che spesso è felice quando ci si incontra in occasioni belle dove la cultura la musica la letteratura la fanno da padrone ci siamo incontrate a dicembre con Elisabetta ed è nato tutto siamo stati travolti dalla sua energia dal suo entusiasmo e non potevamo mancare siamo qui grazie a Luca Crippa noi partecipiamo alla milanesiana con un nostro concittadino veramente illustre il cosiddetto pioniere del surrealismo italiano che è stato docente di Brera per circa 20 anni e che è noto molto all'estero è presente al MoMA in grandi istituzioni museali ma che ha bisogno di essere molto conosciuto qui in particolare a Seregno e questa per noi nell'anno del suo centenario è stata proprio l'occasione per promuoverlo e farlo conoscere io direi che ogni occasione qualsiasi scusa è buona per fare cultura e per diffondere bellezza per cui per noi è veramente importante essere qui per avallare rendere ancora più solido il legame con Milano perché Luca Crippa appunto è la che incarna per noi l'Accademia di Brera e grazie anche al Conservatorio ci unisce veramente questa doppia vocazione tra essere una città serenina brianzola del fare e ambire ad essere ad allargarsi alla platea milanese che costituisce per noi sempre un faro per allargare davvero quanto più possibile questo messaggio di cultura io ringrazio Elisabetta per questo e ovviamente sono auspico che questo primo anno sia l'inizio di un lungo percorso che ci lega al mondo dell'arte e della cultura a Milano ma non solo come abbiamo visto in tutta Italia grazie mille puoi far vedere il catalogo che troverete in tutte le serate della Milanesiana il primo catalogo diciamo della prima mostra della Milanesiana Elisabetta Sgarbi con i 35 docenti di Brera che hanno collaborato con noi per questo progetto grazie 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 a questo punto un'amica della Milanesiana Elena Pavan sindaco di Bassano del Grappa eccola buongiorno ben trovata buongiorno a tutti è un onore per la città di Bassano ospitare la Milanesiana quest'anno sarà il terzo appuntamento Bassano è una città culturalmente vivace abbiamo ad esempio una festival multidisciplinare il terzo in Italia che esiste da più di 40 anni e siamo anche dei protagonisti a livello europeo per danza contemporanea all'avanguardia però avere la Milanesiana Bassano è un quid pluris perché la Milanesiana è un unicum e consente di alzare lo sguardo ampliare lo sguardo respirare più a fondo offrire delle prospettive che sono effettivamente anche rispetto alla nostra realtà un po' di scardinamento quindi grazie grazie assolutamente ad Elisabetta complimenti per il programma di Bassano che apprezzo veramente molto grazie anche a Francesca Masiero che è con lei che ha creato la connessione e generato questo rapporto ringraziata anch'io grazie se lo meritava adesso una collaborazione importante per la Milanesiana Gianpaolo Donzelli presidente della fondazione Meyer con cui da anni lavoriamo con molta cura appunto buongiorno la fondazione Meyer è raccordata con l'ospedale universitario Meyer e lo supporta nelle attività principali della clinica del sostegno alla famiglia e del cercare che la vita in ospedale del bambino sia e continua ad essere la vita normale del bambino io avevo preparato una seppur breve lettura tra arte e medicina in particolare tra musica e medicina perché il 9 luglio sarà proprio il tema centrale della serata però dopo l'ho preso al volo e l'ho preso stamane che il tema centrale della milanesiana è l'omissione Elisabetta Sgarbi ed io ci troviamo ormai parecchi anni fa nell'ospedale Mayer e ci confrontammo in quel caso dopo aver discusso di altri aspetti che riguardavano la letteratura sull'omissione che venivano fatta ai pazienti ricoverati in ospedale gli si omette la persona perché un paziente è un insieme di organi non è una persona quando va in ospedale perde completamente la sua natura perde completamente il suo modello di vita e si deve correlare strettamente e rigorosamente con le regole che l'ospedale detta l'omissione della parola il rapporto medico-paziente diventa sempre più breve ed è stato dimostrato in una ricerca europea che quando un paziente si rivolge al medico e il medico gli chiede perché sei qui e gli chiede appunto di motivare la sua presenza il paziente comincia a parlare e viene fermato dal medico dopo 17 secondi perché il paziente parla della sua vita della malattia e il medico lo richiama immediatamente invece ai sintomi per cui l'omissione l'omissione della descrizione della sofferenza della persona e un'altra infine l'omissione dello spazio c'è sempre più spazio tra medico e paziente non serve più visitare non serve più toccare la pancia c'è l'ecografia non serve più ascoltare il cuore c'è l'ecografia non ci sono più altri aspetti che legano e legavano intimamente che davano quella dimensione unitaria umanistica del rapporto medico-paziente ecco con la milanesiana noi come fondazione di un asperale abbiamo appunto iniziato questo cammino per rimettere al centro il paziente malato e non vengano omessi i suoi diritti e le sue necessità grazie 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 adesso c'è stato un pentimento da parte dei rappresentanti nella città di Ascoli Piceno ne sono felice perché è una città importante è una tappa importante per noi e do la parola quindi a Stefano Papetti direttore della Pinacoteca Civica di Ascoli ecco era giusto ci fosse un intervento buongiorno buongiorno e soprattutto grazie ad Elisabetta Sgarbi che ci ha confezionato un programma meraviglioso scendendo le scale appunto cercavo di trattenere il cuore ormai stanco perché non si sa mai che cosa può arrivare ad Ascoli noi viviamo 360 giorni tranquillamente poi ci sono i cinque giorni della Milanesiana che scompigliano la città ma di questo scompiglio appunto siamo lieti e soprattutto ne sono lieti coloro che rendono possibile la realizzazione ad Ascoli Piceno della Milanesiana intendo dire la regione Marche l'onorevole alla cultura la dottoressa Giorgia Latini il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e la fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno il motore di tutte queste iniziative è il presidente dell'associazione Culturalmente Insieme Francesca Filauri che da cinque anni appunto porta la Milanesiana ad Ascoli scendendo appunto e sfogliando il catalogo cartaceo ho visto il titolo omissioni e entrando un po' in ritardo perché il treno appunto aveva fatto ritardo ho notato l'omissione più evidente che nessuno ha stirato la tovaglia del tavolo al quale siede Elisabetta con i relatori poi guardandola meglio chiedo poi ad Arialdo Ceribelli una conferma di questo ho pensato che la tovaglia spiegazzata fosse un allestimento site specific fatto per questa circostanza perché vedete che metà tovaglia reca delle pieghe perfettamente quadrate l'altra metà dei tagli alla fontana ecco rappresenta bene l'animus di Elisabetta ragione e sentimento sono gli elementi appunto che la caratterizzano che caratterizzano la tovaglia in certi momenti prevare la ragione quando deve fare i conti in altri momenti prevare il sentimento quando deve organizzare e in questo equilibrio appunto è rispecchiato dalla tovaglia quindi non stiratela grazie va fotografata lo dico per Simona Chioccia e adesso è con piacere che chiamo Alberto Lolli rettore al Mo Collegio Borromeo di Pavia buongiorno Alberto buongiorno ciao Elisabetta buongiorno a tutti il Collegio Borromeo di Pavia come molti sanno è una scuola d'altistudi universitari forse l'unico partner accademico che avete come milanesiana ma credo che non potessimo esimerci dal farci travolgere da questo fiume di cultura perché la cultura è il luogo in cui noi viviamo è il nostro pane quotidiano e non per un verso stilistico classista quanto piuttosto perché dal 1561 crediamo che la cultura sia il luogo necessario per cercare nel mondo la propria missione per decidere chi essere e chi non essere per scegliere qual è la propria missione e quella è la propria omissione e quindi crediamo che la cultura in positivo ci aiuti a comprendere ciò che siamo il mondo a fare per capire che cosa non fare mi auguro che anche la milanesiana di quest'anno ci aiuti nella speranza che continui anche il trend positivo che ci ha accompagnato in questi anni che ha portato a felicità anche molti autori che avete portato da noi che hanno vinto un Pulitzer prima di arrivare che hanno vinto uno strega lo scorso anno abbiamo vinto gli europei vediamo che cosa succede eravamo insieme eravate a Pavia vediamo cosa succederà quest'anno grazie buona milanesiana a tutti grazie rettore dell'almo con legge Borromeo di Pavia adesso una bella collaborazione con Guido Curto direttore della Venaria Reale eccolo grazie grazie Elisabetta grazie a voi che siete ancora qui vi aspettiamo alla reggia di Venaria per questa mostra che ci regala Elisabetta su Linus io l'avevo detto nel segreto non si può dire no l'ho detta è perché fino a Pogotefano è un segreto tra me e lei anche in base all'amicizia che ho perso il terrore proprio io sono uno storico dell'arte è nato l'otto maggio come vittorio quindi vi aspettiamo tutto l'anno la reggia dedicata al tema del gioco dell'Uasir è il luogo preciso e quindi viva voi e viva anche Torino e Piemonte insomma che continua questa bella relazione collaborazione e noi vi ringraziamo e ringraziamo te grazie adesso Andrea Macchione amministratore delegato Polo del Gusto buongiorno 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 Andrea porto i saluti anche a nome di Riccardo Illi a tutti i presenti alle istituzioni al professor Marchetti e a Elisabetta Sgarbi motore incredibile della milanesiana la milanesiana nasce come laboratorio di eccellenze il Polo del Gusto è una subolding del gruppo Illi all'interno del quale sono raggruppati i marchi extra caffè tra cui Dan Manfredo Mori e quest'anno siamo proprio con Dan Man qui alla milanesiana perché la milanesiana perché il cibo beh diceva prima il professor Marchetti incredibile insomma mi ha fatto fare una riflessione e il food il cibo è la storia dei popoli che va dalla letteratura fino allo sport se pensate che nel satirico di Petronio c'erano i banchetti nei promessi sposi la carestia il gatto pardo i banchetti e beh nello sport l'evoluzione del cibo permette di migliorare le performance degli atleti quindi questo è il motivo per cui noi pensiamo che sia un vero onore accompagnare questo percorso nella milanesiana con Damman Frera e speriamo e raccogliamo l'auspicio che è stato fatto all'inizio della conferenza stampa che quest'anno la milanesiana sia il simbolo di una nuova primavera grazie 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 adesso siamo in chiusura ci sarebbe la proiezione del video di Giovanni Puglisi scuola interpreti Carlo Bo ma noi ringraziamo lui per il sostegno non vediamo il video voglio ringraziare anche una persona molto importante per la milanesiana a cui debbo molto che è Isabella Menichini che è il direttore del spettacolo della sezione spettacolo del comune di Milano con cui affrontiamo temi spinosissimi che riguardano i bandi e tante altre cose e la gestione anche dei luoghi a disposizione e dei teatri e quindi la ringrazio ma soprattutto vorrei ringraziare oltre che il pubblico che è rimasto qui il professor Marchetti per essere stato qui tutto il tempo perché io credo è un segno di grande rispetto e io credo che sia importante il programma che devo raccontare così non posso omettere gli appuntamenti non ho un budget che mi consenta di riempire la città di manifesti e quindi di far vedere tutto il programma mi devo prendere questo spazio me lo prendo mi rendo conto che è difficile seguire vi do gli strumenti per seguire il catalogo eccetera chi segue una parte chi si distrae però trovo che anche la parte di questi mecenati perché per me non sono sponsor perché mi piacerebbe un giorno raccontare come si raccolgono questi contributi economici senza i quali non potrebbe esistere la milanesiana ecco questa parte in cui ognuno racconta come si si relaziona con un festival che fa dialogare le arti e perché desidera esserci insomma è una parte secondo me molto importante che merita l'attenzione dei giornalisti e di chi poi racconterà questo viaggio in Italia che è un insieme di gestione manageriale della cultura e di contenuti così importanti che sono quelli che cerchiamo di portare quindi io ringrazio il professor Marchetti di essere stato qui di avere ascoltato di avere partecipato lo ringrazio sempre per le cose che fa per Milano per la casa editrice per il sostegno ormai lunghissimo alla milanesiana e voglio chiudere proprio con questo ringraziamento grazie a voi e via grazie a te da buon notaio ho preso nota di tutto grazie al pubblico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti